Buongiorno, infatti dirò agli autori che è molto interessante, io stesso ho fatto due articoli, uno nel 2015 e uno nel 2016, quello del 2016 l'ho trovato in rete nella rivista Autonomie Locali e Servizi, perché ovviamente pure a Napoli questo tema è sensato, trattato, complicato, bla bla bla. Grazie. Allora io provo a fare una cosa, ho cambiato programma, anzi che farvi vedere subito il PowerPoint che dopo sfoglierò velocemente, vi dico in breve per migliorare i minuti, diciamo. Io ho iniziato a 24, quindi mi dico. Allora, sostanzialmente io da tempo seguo alcuni problemi e nell'epoca dei grandi professori, per dirne una, Alessandro Pizzorno. C'era ovviamente nella modernizzazione italiana il fatto che uno andava, lo studioso più bravo, andava negli Stati Uniti, capiva dove stava andando la modernizzazione, si modernizzava, capiva le nuove fondi della ricerca, per esempio negli studi sociali evidenti, questo che lì c'era, la sociologia da noi è iniziata, insomma le cattere sono iniziate, insomma dopo gli anni cinquanta ad esserci, la prima generazione di sociologi italiani accademici erano filosofi, agronomi, economisti, non erano nati come sociologi. E quindi cosa faceva? Come succede ancora oggi giustamente per la medicina? C'è una pratica che io un po' scherzosamente definisco di importo e esporto, si appiglio il modello concettuale, le categorie analitiche, quel modo, quel paradigma e lo porto qua perché noi stiamo ancora indietro ma fra un po' succederà quello che è successo lì e quindi anticipo l'interpretazione di alcune dinamiche. Allora questa cosa ovviamente, credo io, ovviamente posso sbagliare, in medicina funziona bene perché più o meno il corpo umano, quello è le tecniche, in altre discipline funziona. Nelle discipline che hanno a che fare più di più con lo studio della società e dei territori, inizia da tempo a fare Cilecca, in realtà inizia da fare Cilecca con gli studiosi dello sviluppo, diciamo, contro i divari dagli statunitensi che andavano in Sud America con certi modelli mentali e poi scoprivano che le cose non funzionavano o venivano nel Sud Italia e scoprivano che le cose non funzionavano. Allora questo rapporto un po' più generalista in Porta e Sport che ovviamente ha dato molto e ha tanti buoni motivi. Ancora oggi io ho davanti a me lo schermo l'ottimo Francesco Chiorelli che è un giovane molto valido che si è ben accreditato in in Accademia perché è un signore che ha una grande competenza nella conoscenza della letteratura internazionale. Lui stesso è stato quasi anche un po' un divulgatore e diciamo posso dirlo è ha un approccio critico tendenzialmente radicale e quindi per lui alcuni autori eh internazionali hanno detto delle cose che più o meno valgono abbastanza pure per noi. Ok? Quindi ci sono tanti buoni motivi per per capirci per tenere a mente che deve darvi ok? Ma io ho qualche problema diciamo così. Niente di che in realtà uno dei motivi per cui sono agito sono impegnato in questo è che io ho qualche problema non so. Però spero che ci sia anche qualche altro argomento. Sapete meglio di me che da tempo anche fra geografi c'è la questione ma il Sud il punto di vista del Sud quanto mette in discussione i paradigmi elaborati in altri contesti. territoriali. Ok? Poi c'è un'altra cosa scusate sempre l'approccio biografico. Io come Francesco sa eh ho partecipato anni fa a una bella grande ricerca di PRIN coordinata dall'ottimo amico e bravissimo eh studioso Alessandro Balducci del Poirecchio di Milano sulla ehm lettura in Italia del funzionamento del paradigma della post metropoli. Ok? E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un sacco. Io avevo lavoro imparato abbastanza cose e abbiamo abbiamo molto utilizzato un approccio che io lo chiamo satellitare con le mappe no? Misse dall'alto le cose di Brenner e tutto il resto. Ok? Mi sono un po' stancato poi dell'approccio satellitare e ho deciso di tornare nelle diciamo così a piano terra eh? Nelle nei sottoscala per vedere un'altra volta invece da un punto di vista micro. c'avevo anche un'altra questione psicologica mia che io ho vissuto prima in una casa su una strada poi più o meno a mh ehm più o meno undici anni non mi ricordo sono andato a vivere in un'altra casa in un palazzo. In questo palazzo ci ho vissuto fino al mil novecentottanta quindi parecchio tempo perché è venuto il terremoto e me ne sono dovuto andare. poi ho vissuto vent'anni in un altro posto poi sono per un accidente poi leggerete un articolo chi vorrà sono tornato nel palazzo e ci vivo ancora quindi in questo palazzo sto intorno ai oh fra un po' fra una insomma quarantina d'anni di vita e c'è un po' di gente che lo stesso abita da molto tempo e quindi cosa ho fatto? Un po' per un psicologico un po' per una eh le cose che ho detto prima mi sono messo a fare una sorta di biografia delle degli avvicendamenti degli abitanti in questo palazzo ho fatto delle interviste c'è una signora che noi chiamiamo la Marchesa diciamo ma non è mai stata una che sta lì perché è una signora di un certo livello ma ovviamente è uno di quelle che vive da sola con l'abbanante che però è molto lucidante io l'ho intervistato poi ho fatto quattro cinque interviste io mi sono ricordato e ho costruito la biografia di questo palazzo alla fine vi dirò le poche conclusioni a cui sono arrivato perché perché questo momento di una ricerca adesso ne sto facendo un'altra di tutto altro genere di cui parleranno oggi alcune collaboratrici sui migranti in città diciamo perché alla fine io c'ho un macro tema ma è vero che Napoli ha delle peculiarità come città del sud nella divisione sociale dello spazio nelle dinamiche di divisione sociale dello spazio nelle dinamiche di modernizzazione come si può documentare questo per cui dico ok va benissimo viva eh gli studiosi internazionali che in altri contesti hanno elaborato delle cose ma amici cari alcuni di quegli attrezzi qui non funzionano bene addirittura forse sono aporetici l'approccio tutto un po' schematizzato poi in alcuni gentrificazione e via ricerca non funziona bene il che non significa che in questa città del sud ci vogliamo bene c'è una sorta di socialismo forse siamo anche più cattivi con i deboli però la divisione sociale dello spazio gioca secondo altre dinamiche che vanno meglio interpretate come sapete c'è un ottimo geografo eh greco che da tempo eh multa eh studia questa roba qua sono in pochi ancora e quindi il tentativo è di dare un contributo in questo esempio adesso eh eh condivido lo schermo ma velocemente vi farò vedere le diapositive anche un oh e quindi appunto questo è un articolo che è uscito sulla rivista del dipartimento milanese o qualche anno fa dove c'è una prima grande rappresentazione di questo lavoro eh è appunto sostanzialmente quindi io parto da questa cosa che chiamo il ciclo il compresenza avvicendamento e sostituzione tutti i bravi studiosi radicali ma questo è già da prima di Arbei diciamo tendenzialmente fanno uno studio nella divisione sociale dello spazio della dinamica e dicono cosa succede che c'è insomma è un po' lo schema a base della gentrificazione che non vi riassumo che lo conoscete tutti quanti e e e e in questo lavoro in realtà fanno ci sono due mosse epistemologiche importanti condivise da molte persone che ogni concentrazione tendenzialmente è segregazione se voi pigliate eh la lista degli articoli più o meno significativi che potete recuperare anche dalle piattaforme sui migranti per esempio nelle nostre città più della metà di questi articoli ci hanno già nel titolo la parola segregazione perché associano eh insomma secondo questa impostazione tendenzialmente ogni concentrazione è è è interpretabile come una segregazione io questa cosa la contesto a Napoli questa cosa è contestabile credo anche in altre città del sud prima cosa seconda cosa sostanzialmente c'è una sorta di ciclo quello che sta alla base dello studio della gentrificazione che più o meno è sempre uguale e con in varie con delle varianti si realizza a a Detroit come a Parigi a Milano come a Siracusa a Napoli questa cosa secondo me non è vera nel senso che studiando le dinamiche territoriali per esempio a Napoli io dico per esempio a Napoli sono molto modesto mi scuso però eh perché sto su questo pezzo più eh come studi e non funziona proprio perché non ci sono delle eh precondizioni non ci sono i grandi promotori immobiliari e comunque se tu vedi ampie parti di questa città significative ma sì c'è parti c'è compresenza c'è non ci sono grandi promotori immobiliari che comprano interi edifici di struttura non c'è una sostituzione i tempi sono molto più lunghi perché è chiaro che noi non possiamo confondere qualsiasi avvicendamento con la sostituzione perché perché non è che noi non possiamo avere un idea perché una volta che il professor Chiorelli sta in una casa hm per quarant'anni deve stare lì se non è in qualche modo o è un estrattivo che si va a pegliare il posto di un altro buttandolo fuori oppure viene buttato fuori da qualcun altro ci sta un avvicendamento nell'uso del patrimonio abitativo che c'è un qualche elemento di fisiologico secondo me quando in un mercato dell'abitazione non la stessa persona ma anche lo stesso cetro talvolta a Napoli la stessa persona sta venti trent'anni ok eh sostanzialmente quello è avvicendamento non è esattamente e quindi scorro velocemente hm quindi eh qua c'è tutta una lettera di riferimento molto bella su lo studio sui palazzi le case che voi certamente conoscete sia di tipo scientifico sia di tipo letterario io ho scoperto in questo lavoro questo libro il fabbricone molto bello che vi consiglio di leggere eh c'è un'altra questione specifica napoletana che andrebbe indagata nelle altre città già per come è costruito un patrimonio vetusto hm dal seicento al settecento ci sono decine di taglie qua eh in termini di ampiezza spaziale di qualità dell'abitare molto presenti nello stesso edificio nello stesso isolato nello stesso rione per cui noi in un brano se tu pigli un teorema laino se tu a Napoli pigli un ettometro quadrato nel centro urbano hm è difficile che non trovi sette otto divise diverse taglie qualitative di di abitazione e quindi di ceti compresenti talvolta interagenti hm eh vabbè io quindi ho preso il palazzo ho fatto lo studio ovviamente ho ho reso tutto anonimo perché ho studiato il radicamento delle famiglie questa è la mappa della mia famiglia che è entrata nel sessantasei e in parte ancora presente hm eh in più case perché poi queste famiglie in queste case in questi palazzi fanno una strategia eh conquistano il piano di sotto la casa più grande poi si spostano lì poi comprono la casa del figlio per il figlio quando se ne va eh l'inquilino che stava lì bla 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 e questo è abbastanza vero per varie famiglie eh io ho studiato tre quattro famiglie le dinamiche di avvicendamento e di radicamento per arrivare a che cosa vabbè questo bla 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 sono le varie famiglie che ho approfondito ne ho fatto una mappatura un po' complessa che adesso non vi presento e quindi ho fatto una sorta ho fatto poi un aggiornamento tra il duemila e sedici prima e poi duemila e venti col covid della divisione sociale dello spazio ovviamente qua questo è un palazzo dove c'è nettamente una divisione sociale dello spazio hm c'è gente che da solo con l'abbatante abita in centoventi centocinquanta metri quadri di un bel appartamento e ci sono famiglie nei bassi che abitano in sé di loro in sessanta settanta metri quadri a un livello di una qualità ben più vetusta prima c'erano molti più studenti fuori sedi e siti user perché alcuni proprietari avevano massicciamente utilizzato la loro casa per mettendo su piattaforme in parole adesso ne è rimasto solo uno che c'è una bella casa vacanze che fitta a settecento euro la settimana che è molto bella sta a fianco la mia casa quando Francesco verrà lo verrà l'ospito e quindi c'è una netta divisione sociale dello spazio con una netta distinzione diciamo così di classe però è una revisione che non è interpretabile secondo gli schemi estrattivi rigidi eh eh anche un po' violenti che la letteratura radicale ha messo in campo in parole e quindi hm sostanzialmente io forse ora non c'è il tempo di leggervi tutte le conclusioni ma io ritengo che facendo questo studio di tipo etnografico approfondito micro hm emergono elementi anche di lunga durata delle caratteristiche del patrimonio delle caratteristiche delle dinamiche di divisione sociale dello spazio che meritano un 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 l'invito a persone come Chiorelli altri di voi molto bravi a venire qua e studiare insieme a noi perché in questa città del sud ma io credo anche in altre ci sono elementi per tirare fuori e anche forse un dovere una teoria interpretativa della di visione sociale che un po' che un po' si emancipa dagli grandi schemi importati dai grandi studiosi diciamo di matrice anglosassone. Passo e chiudo.